Il certificato di eccellenza Green Estra è stato consegnato per la prima volta a 7 imprese del distritto conciario di Santa Croce sull'Arno, che hanno totalmente abbattuto le emissioni di anidride carbonica. È attivo il saldo ambientale di Estra tra emissioni prodotte e immesse in atmosfera. Il bilancio della Multi Utility parla di oltre 13.000 tonnellate di minori scarichi di anidride carbonica, ossido di azoto e polveri sottili. Lo smanoro cablato da Estracom, che ha collegato 800 imprese con 12.000 metri di fibra. Un investimento di 300.000 euro per portare la banda ultrarapida nel distretto industriale della Piana Fiorentina. È quasi 250 milioni l'indotto economico generato da Estra. A tanto ammonta il valore delle forniture causate dal gruppo energetico, che nel 2018 ha originato commesse per 2.419 fornitori. Grazie a tutti! Grazie a tutti!